Samsung TV. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.6 su 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Le sue qualità sono. Leggero. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo remoto. Comodo. Versatilità. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Archgon è di 8.6 voti su 10. Lo valutiamo come la scelta migliore. I suoi punti di forza sono. Leggero. Robustezza. Stile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale ha segnato a questo articolo di LG e di 8.8 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Stile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Controllo remoto. Livello del rumore. Interfaccia utente. Qualità dell'immagine. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video.